Udienza Lampo questa mattina in tribunale a Piacenza, in sede di incidente probatorio, sono state acquisite dai giudici le perizie psichiatriche redatte nei confronti di Adriano Casella, 36 anni, reo confesso dell'omicidio del padre Francesco, di 78 anni, e della sorella Isabella, accusata di occultamento di cadavere. Entrambi erano presenti in aula. Per l'omicida si parla di capacità di intendere e volere fortemente diminuita al momento del delitto, una tesi che si sposa con le teorie accusatorie che vedono come protagonista una donna albanese di 28 anni, ora irreperibile, che avrebbe spinto Casella a compiere l'efferato delitto il 7 luglio scorso a Sariano di Gropparello. Anche la sorella Isabella è descritta dagli psichiatri come una persona fortemente suggestionabile. Ora il PM Ornella Chicca tirerà le fila del lavoro svolto dai carabinieri e chiuderà le indagini. A quel punto si andrà verso l'udienza di fronte al GUP. Grazie a tutti.